Cari amici, vi sarete certamente accorti che il prezzo della benzina, anche in modalità self, si è alzato sopra 2 euro al litro. In questo difficile contesto è fondamentale saper scegliere il distributore più conveniente dove fare il pieno. Proprio per questo motivo, Altro Consumo, la nota Associazione di Tutela dei Consumatori, ha monitorato il prezzo del carburante per un anno, andando a confrontare l'andamento delle principali insegne lungo le strade e autostrade italiane. Da questa indagine è emerso che per quanto riguarda i grandi distributori presenti in città e sulle strade extraurbane, i prezzi della benzina sono abbastanza allineati, ma se proprio dobbiamo stilare una classifica, ecco chi è il più conveniente. Al primo posto c'è la Tamoil, poi la Esso e la Kuwait alla seconda posizione. Al contrario, Api ed Agip sono quelle più care, ma solo del 2% in più. In autostrada invece al primo posto troviamo Tamoil, Kuwait e Sa. Mi seguono poi Api ed Esso, la più cara è Agip. Per il diesel è sempre Tamoil al primo posto, seguita da Esso e Kuwait. Poi c'è Api ed infine la più cara è Agip. Questa è la benzina.